Buonasera a tutti ragazzi, sono Agisios e oggi siamo qua con... Che c'è? Bene, allora, siamo ancora alla parte iniziale perché cosa è successo? Si è baggata la mappa, abbiamo dovuto rigiocarla tutta, e però ce l'abbiamo fatta. Inoltre, sono riuscito tipo a scovare... C'è uno scheletro. Ma perché? Ma perché? Dov'è lo scheletro? Eh, ciao Cece! Ciao! Ecco ragazzi, volevo farvi vedere la cesta della vita. Questa qua è la cesta della vita che noi l'abbiamo manco notato all'inizio. Ci sono dentro 64 torce, 64 frecce, una spada in ferro, del cuoio e l'arco. Ok ragazzi, siamo tornati qua. Io adesso vado a settare lo spawn. Non posso... Oh, ma quanta bella roba che c'è qua. Ok, puoi dormire? Cece, dormi, dormi, veloce. Così sentiamo lo spawn. Ok, io qua ho un arco, 64 di... 64 di pello, la spada in ferro, 64 frecce e... e 64 torce qua, ok. Due due, 66. 66, sì. Ok, allora, ho praticamente preso tutti gli strumenti che avevamo perso all'inizio, perché una volta che uno lo sa fare, dopo lo fa... Cioè, il dungeon lo sa non fare. Allora, abbiamo due cartelli. Uno con contracolpo 2 e uno con contracolpo 2 e... Aspetto di fuoco 1. 31 di carbone, un altro arco, bla bla bla. Cose belle, quindi. Ho ripulito tutte queste ceste, quindi fai... Oh, c'è un zombie. Ok, bisogna scendere di qua. Ho due... Ah, beh. Hai? Dove la carne in marcia. Eh, non si può più risalire così, quindi facciamo così. Occhio agli zombie. Ma prendi fuoco e basta. Vattene via, non ti vuole nessuno zombie. Sei inutile, inutile. Ma c'è ancora scaletta? Qua... Quasi, quasi scaletta. Ah no, è una scaletta. È già fatta. Oh, c'è, c'è, c'è. Abbiamo una cesta avanti. Ah. Sfidiamo qua, guarda. Chiudo io. Chiudi cosa, aspetta? Io aspetta. Ah, questo. E io provo poco materiale. Eh, anch'io non ho tantissimo materiale. Ho della ghiaia. Eh. Non penso che aiuti. Vediamo se c'è una cesta. Sì, sì. Cosa? Legno, legno. Oddio. Vai a portarlo a casa. Vado a portarlo a casa. Sì, è entrato. Oh mio Dio, piccina, piccina, piccina. Ah, ah, ah. No, sono uno scheletro. È una spada. È una spada. Ammazza lo scheletro. Oh, mi sta. Ammazzato. Oh, oh. Ma ucciso. Lontani, lontani voi. Lontani. Ma ucciso. Come ho fatto quel... Beh, vengo a riprendere la mia roba, tanto c'è un ragno. Li ho ammazzati tutti. C'erano tipo 12 zombie. Dov'è il ragno? Ho preso tutto. Dov'è il ragno? Hai ripreso la mia roba? Sì. Anche la mia. No, arrivo, arrivo. Dov'è cacchio è il ragno? Vuol chiudere. Ecco, ti vede. Ti seguo. Ho c'è che c'è. Cosa c'è? Ah, era lì. No, 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 rimuoio, 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 rimuoio. Anche io, anch'io, anch'io. Guardate a quel paese. Ma lo spag... No, 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 no. No, 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 no. Metti in blocco! No, 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 no. Ma che pece palle però. Aspetta, aspetta che faccio una manovra. Chiudi? Ci sono tre pagnotte. Ok, chiuso. No, no, qual cavolo l'ho chiuso, un blocco. Mi ha dato del ferro, mi ha dato un ligotto. Fai così, ci serve Fidek il ferro, finalmente. Però guarda, c'è anche un piccone, prendilo tu. Ma le mie torci dove sono fitte? Eh, mi sa che ce l'ho io, aspetta. No, te l'ho dato un po'. Prova a vedere l'inventario. Mi sa che lo lasciate su, eh. No, te l'ho dato. Oh mio Dio, ci sono i ragni. Eh, i ragni. C'è del vetro, c'è del vetro. Eh, non penso sia la lana. Oh no, oh, che zè. Sì, ma no, mangiù, vai. Che casino assurdo. Che casino assurdo. Oh, oh. Una carota. Una carota. Una carota. Ho finito la spada. Tu hai due spade, per caso. No, ne ho una sola. Vai. Oh, sti cacchio di ragni. C'ho una spawner di ragni. C'ho uno. Eh, vabbè. Sì, ma dillo che sei Gesù. No, no, ho preso il fuoco. No, ho preso il fuoco. Uo, io ho il ragno. Basta. Oh, muoio. No, c'è, 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 fermo. Oddio, male. Oh, mio Dio. Cino, ma cos'era? Ma sono troppi, c'è, 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 c'è. Mi tocca prendere un piccone di legno. Eh, sono morto anch'io. No! Canal Crip. No, no, dove sei saltato fuori, no? Perché? Perché sotto c'è una roccia Silverfish. Prima di colpirlo chiudi. Ok, ho chiuso, ho chiuso. Problemone, 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 problemone. Ok, puoi, puoi colpirlo il Silverfish, puoi colpirlo. No, no. Ah, no. Arrivo, arrivo. Stai lì, tu chiudi bene che arrivo. Che poi facciamo tutta la roba. Prenditi il piccone, il mio piccone. Sì, l'ho preso tutto, preso tutto. Usalo tu e fai, inizio a fare una grotta. Perché davanti a dove stavo per spaccare io, non so se hai visto. Proprio lì c'è lo scommer di zone. Eh, sì. Più o meno è lì. Perché è tutto un labirinto. Aspetta, aspetta un attimo. Ascolta, ascolta, ascolta. Facciamo così. Vieni qua, vieni qua. Facciamo così, guarda. Io metto un blocco. Eh, eh? Eh, bisogna, bisogna chiudere, c'è, perché così almeno uno riesce a bloccare. Vedo lo zone. Se tu li apri, ci sono gli zone. Sì, ho visto. Ho il ragno, ho il ragno. Eh, li mando via col... No, distragli che io... Oh, vedo lo spawner, vedo lo spawner, vedo lo spawner. Ma porca miseria, non riesco a metterlo giunto. Hai il pippone, hai il pippone, no? No, sono il tuo impitrisco. Aspetta che mi sceglie per romperlo spune. Già che ti prende le carti, la carti, la carti. Ma hai distrutto lo spawner. No, non ce l'ho fatto, sono tantissimi. Alla te o no? Alla te o no? Dai! No! No, barbiatone. Parti di merda. Ok, ok, ce la posso fare, ce la posso fare. Aiuto, muoio, 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 muoio. Eh, guarda che ho fatto brezza dall'altra parte. Devi chiudere dall'altro buco vecchio. No, dov'è il piccignacco? È dentro una stanza. È la nostra stanza... No, devo ammazzarlo. Madonna! Siamo immortali, piccignacco. Adesso è una roba... Indecente a chiudere. Ma guarda, ma non riesco... Ok, ok, ok. Adesso posso chiudere, posso chiudere. Chiuso, chiuso. Ho la tua roba. No, però ho un'idea, cicci. È vero. Anche io ne avevo una, però lo sentiamo prima la tua. Aspetta, lo vedo, lo vedo. Sono qua, sono qua, sono qua. Di tre di te. No, dove c'è? Sono qua. Ehi. Ehi. Ok, ok, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Distrutto. Cece, cece, ho fatto breccia. Eh, hai fatto breccia? Buono. Sì, guarda, guarda qua c'è. Aspetta. Ho preso un osso come arma, perché sai, ha più grande. Oh mio Dio, guarda cosa ho fatto. Oddio, ceci, ho fatto un tunnel, guarda. Guarda. Non vedo, scelta. È un tunnel questo. Passa. Qua c'è la parete. Qua c'è la parete con lo spawner di ragni. Oh, 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 ragno cattivo. Cattivo ragno. Mi sa che ci sono i silverfish, perché ne ho visto, non che l'ho ammazzato, ne? Ma secondo me ci sono. Ah, da qualche parte ce li ha messi. Ho c'ho sopra, ne? Eh, sì, sto guardando dove è lo spawner. Oh. Sì, scusa. Sì, io stavo colpendo un ragno. Voglio non interare. Ho trovato lo spawner. Guarda, esatto, sopra, bravo. Ho fatto. Ah, ma, distrutto lo spawner. Sì. Vediamo. Qua, qua è libero, qua è libero. Sì, dall'altra parte. Cece, torna giù, torna giù, torna giù, torna giù. Presto, non dovreste venire a vedere come è bello il fuoco. Mastica, mastica, mangia, mangia. Mastica, mastica, mangia, mangia. Non è salutare a mangiare tanti di una volta sola. Stanno ingerendo una marea di calorie. Tutti e due, fate silenzio. Non posso credere che Giro abbia scelto un suo amico invece di due bellissime ragazze. Ma credo che sia proprio tipico di lui. Ha davvero ferito i miei sentimenti di donna. Ha davvero ferito i miei sentimenti di donna. So, mangiamo fino a scoppiamo. Si, ma cos'è, ma cos'è.